Ha ancora i caratteri del mistero quanto accaduto ieri sera a Dortanova dove una ragazza di 18 anni è stata ferita a coltellate durante un litigio con una coetanea. La discussione nella piazza principale del paese sarebbe avvenuta tra le due diciottenni soprattutto per futili motivi. Stando infatti alla prima ricostruzione dei carabinieri, le due ragazze avrebbero discusso probabilmente per questioni sentimentali. La lite sarebbe poi rapidamente degenerata sino a che una delle due ha impugnato un coltello colpendo due volte l'altra al busto. La vittima allora si è recata alla guardia medica per farsi medicare ma i medici hanno disposto immediatamente il suo trasferimento al Policlinico Riuniti di Foggia dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Non è però in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri come detto che hanno avviato le indagini. Al momento l'arma non è stata ritrovata. Le indagini sono in corso soprattutto anche per rintrocciare l'autrice del ferimento al vaglio ci sono i filmati delle telecamere presenti in zona.